e avete scelto di sposarvi nel Signore e sposarvi nel Signore significa quello che avete ascoltato nella parola Grazie a tutti è un giorno tanto atteso, desiderato, voluto un giorno di cui avete la consapevolezza di quello che fate perché siete maturi e quindi la scelta non è imposta ma è vostra quindi nella piena libertà e per amore perché voi vi sposate liberamente e per amore grazie a tutti grazie a tutti